Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per occhio ai giornali. Come vedete andiamo in onda in orari un po' diversi dalla consueta programmazione, ma anche le esigenze di palinsesto sono state contagiate dal coronavirus, adesso abbiamo la messa intorno alle 7, quindi noi arriviamo in coda alla messa. Comunque potete continuare a seguirci sempre sui vostri dispositivi personali, tablet, smartphone e pc da casa, eventualmente quindi comunque nel corso della mattinata riusciremo a raggiungervi ugualmente, però la mattina siamo sempre in diretta qui a coda della Santa Messa. Bene, procediamo come sempre, anche se i giornali sono chiaramente monopolizzati dal coronavirus, però ci sono anche altre notizie, noi cercheremo di mostrarvi un po' tutto quello di saliente che c'è sulle pagine di Resto del Carlino e Corriere Adriatico, ma procediamo con ordine, come sempre diamo un occhio anche al calendario. Quindi guardiamo subito con l'aiuto della grafica che ci propone la regia, oggi è sabato 14 marzo e Santa Matilde di Germania, il sole è sorto alle 6.22 e tramonterà alle 18.12. Previsioni del tempo, per oggi sabato sono all'insegna della variabilità, nuvoloso e a tratti anche molto nuvoloso, però ci saranno anche schiarite nel corso della serata. Precipitazioni deboli e isolate, più probabili però nella seconda parte della giornata, compare anche il limite delle nevicate che però si attesta a quote alte, 2.400 metri, ma che tendono anche ad abbassarsi fino a 1.800 metri, temperature in diminuzione nei valori massimi. Le previsioni per domenica, domani, quindi nubi residue in mattinata, quindi ci sarà una nuvolosità parziale che però nel corso della giornata andrà in dissolvimento, quindi per il resto della giornata avremo un cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Anche in questo caso le precipitazioni vengono date, non nel nostro quadrante, come vedete che è sgombro dalla simbologia della pioggia, che invece è presente nel settore meridionale della regione, sia costiero che anche collinare. Lunedì inizio di una nuova settimana all'insegna del sereno e quindi senza precipitazioni e anche senza particolari fenomeni da segnalare. Allora andiamo subito nelle pagine dei giornali, vi dicevo in apertura c'è tanto che parla dello sviluppo del contagio del coronavirus. La giornata di ieri è stata una giornata molto pesante sul punto di vista dei decessi, ma anche i contagi che sono schizzati oltre a quota 700. Ma entriamo subito nelle pagine dei giornali, vi porto in quella di apertura del resto del Carlino, morti e contagi è l'ora più buia, questa è l'apertura. 11 vittime nelle Marche in totale, ben 7 da noi, anche il commercialista D'Angelo è scomparso, positivi, sono in 724. L'ora più buia, speriamo che si inizi a vedere un po' anche un allineamento della curva, che però non accenna a diminuire. Io chiudo tutto, doveva farlo Conte, parla Walter Scavolini che ferma l'azienda, andava in posto secondo l'imprenditore, a livello nazionale il governo doveva imporre appunto questa misura. Le decisioni delle imprese, un po' tutte quelle del nostro comparto produttivo, lo vedremo anche nelle altre pagine. Guardiamo anche l'altra pagina di apertura, quella del Corriere Adriatico, che raduna un po' su Marche Nord tutte le notizie. Anche questa apertura è dedicata al coronavirus. la settimana che decide tutto, sì, perché avremo davanti, secondo le previsioni, forse la settimana più decisiva per quanto riguarda il picco anche di contagi. Si spera che dopo questa settimana si inizi a vedere appunto, come dicevo prima, una curva un po' più allineata e non così impennata. Dopo vedremo anche un grafico che spiega bene questo concetto. quindi numero di malati 725, altri 9 anziani purtroppo non ce l'hanno fatta. Elezioni regionali che erano ormai addirittura d'arrivo, è certo che si slitterà tutto ad autunno e quindi tutto rimandato anche in questo caso. Vero o falso? Guida pratica per vivere il coprifuoco e vedremo anche questo. Intanto appunto vi parlavo della curva dell'impennata, eccola qua. Qui possiamo vedere tutto l'escursus da martedì 26 febbraio in cui ci sono stati i primi tre contagi, due dei quali ricordiamo erano a Fano e oggi, giovedì ieri, fino a ieri i dati sono questi, siamo arrivati a 725 e questo è il dato che ci riguarda, Pesor 496, insomma sicuramente sono un numero molto significativo. Siamo in testa alla regione, anche le persone in isolamento domiciliare, qui da noi guardate sono 1223 e quindi insomma i deceduti in totale sono schizzati a 36. Questa curva che speriamo di vedere che si appiani un pochettino, non sia così inimpennata nelle prossime giornate. Regionali e comunali, rinvio certo, voli cancellati anche e soppressi 80 treni per mancanza appunto di viaggiatori che giustamente stanno a casa in virtù di quanto è stato detto. Ecco, questo è vero o falso, adesso ve le faccio vedere appaiate perché è molto interessante queste due pagine del Corriere Adriatico perché, vedete, sono molto facile e intuitiva come cosa e ci sono i quesiti principali che uno si può porre in queste giornate. Devo recarmi alle poste per sbrigare una pratica, ma gli uffici sono chiusi? Falso. Oppure mi serve una lavanderia e mi hanno detto che sono rimaste aperte? È vero. Insomma, tutti questi quesiti, anche abbastanza basici, che però possono fare un po' la differenza. Non posso saltare l'appuntamento con la parrucchiera? Ecco, questo è falso, perché se vi fermano le forze di polizia e dite che state andando dalla parrucchiera, insomma, non è che è proprio così. Non si può. E quindi, andiamo avanti. Passiamo appunto alle notizie che riguardano il coronavirus sul fronte sanitario. Tra le vittime c'è anche Arturo D'Angelo, un commercialista molto noto, 76 anni, era stato portato a Urbino dopo che gli accessi al San Salvatore erano stati bloccati e quindi è scomparso in virtù appunto anche di questo contagio con il coronavirus. Aveva accusato febbre alta domenica scorsa, poi un costante peggioramento fino al decesso nella giornata di ieri. Ma focalizziamo l'attenzione anche su questo concetto. Medici di famiglia, ci sono 10 positivi e tanti anche in quarantena, diciamo così. Chiudiamo gli studi, parla il Presidente dell'Ordine, Paolo Battistini, dice noi siamo inascoltati, sono giorni e giorni che lanciamo appelli, però nessuno ci ascolta, non abbiamo i PMI, cioè i presidi individuali di protezione, siamo lasciati un po' così alla nostra iniziativa, non abbiamo supporti e quindi se continuano a verificarsi casi positivi o colleghi in quarantena, dice Battistini, saremo costretti a chiudere gli ambulatori se non siamo messi in condizioni di fare il nostro lavoro in sicurezza per garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, faremo come è stato fatto a Codogno dove gli ambulatori medici sono stati chiusi. Dobbiamo azzerare l'eventualità di contagio dei camici bianchi perché questo può essere un veicolo venendo a contatto con tante persone proprio di diffusione del contagio. Intanto si corre ai ripari perché l'ospedale di Pesaro è il centro di riferimento per il nostro territorio per il coronavirus e quindi il pre-triage, che era questo, il modulo polifunzionale, non basta più, si montano le tende, la protezione civile monta due tendoni per fare appunto il pre-triage, per valutare i pazienti in entrata se hanno sintomatologie. Vi faccio vedere questo dato che è indicativo della situazione che stanno vivendo i nostri sanitari, che stanno combattendo con le unghie e con i denti giorno e notte e al quale non ci stancheremo mai di ringraziare. Nella mattinata di ieri ci sono stati, pensate, 80 persone in attesa fuori dall'ospedale di Pesaro, in attesa di essere valutati. Quindi c'è una grande massa di pazienti in arrivo, proprio perché è il centro di riferimento e pensate alle 4 di ieri pomeriggio ce n'erano ancora 35 in fila per essere visitati. Una situazione veramente caotica e per questo si montano le tende fuori dal pronto soccorso. Queste sono le condizioni che affrontano i nostri medici tutti i giorni. Però ci sono anche le buone notizie, perché se i pazienti gravi migliorano, curati con il farmaco per l'artrite, arriva da Napoli, ormai lo sappiamo, abbiamo imparato quasi tutto di questo farmaco, dove vengono curati anche pazienti sia a Fano, a Bergamo e anche a Torino. Ci sono 6 pazienti che sono trattati nelle nostre strutture con questo farmaco e sembra che sia un po' la svolta. È stato anche emesso a punto un protocollo nazionale per uniformare l'utilizzo del Tocilizumab, questo principio attivo che è utilizzato per l'artrite reumatoide e che dà risultati. Ma perché dà risultati? Beh, è molto semplice, insomma, è stato spiegato, ma ve lo diciamo anche a voi. È praticamente un farmaco che agisce, ci si è accorti, i medici ci sono accorti che questo farmaco agisce su una causa, una causa che viene scatenata dalla polmonite intestiziale, ovvero sia l'infiammazione. Quindi questo farmaco agisce sull'infiammazione, non sulla causa, quindi su un effetto che viene praticamente scatenato dalla polmonite e quindi diminuisce l'infiammazione e quindi i pazienti si stabilizzano. Insomma, ecco, non è una causa, non agisce direttamente sul virus, ma su una conseguenza dell'infiammazione. Questo è un po' il principio che sta alla base di questo farmaco, che sta dando grandi risultati e speriamo che aiuti a risolvere tante situazioni. Pattuglie e altoparlanti, un'altra raffica di denunce perché i controlli continuano e quindi i cittadini sono invitati a stare a casa, anche con messaggi audio dalle auto della polizia, quasi un migliaio sono le persone che sono state fermate nella giornata di mercoledì e anche l'esercito scende in piazza per la sicurezza. Qui siamo praticamente a Urbino e messaggi anche con l'altoparlante dalle macchine per avvisare che i residenti devono stare a casa. Tesoretto per Marche Nord, donati oltre 700 mila euro, le donazioni in 72 ore schizzano a 900 e veramente la catena della solidarietà non si arresta. Privati, cittadini, aziende, istituti di credito in tanti hanno contribuito a creare appunto questo tesoretto, ma non solo respiratori, verranno acquistati anche dei monitor per appunto tenere sotto controllo le funzioni vitali del paziente 24 ore su 24, insomma verranno utilizzati al meglio per supportare questa emergenza. Rivacol e Vitrifrigo, però ci sono anche le conseguenze sul comparto produttivo, sciopero a oltranza perché da lunedì finché non saranno garantite le condizioni di sicurezza dei lavoratori e appunto le associazioni sindacali hanno indetto lo sciopero. Cassa integrazione poi per i dipendenti dell'IMAB, la prima volta, questo che si verifica in 52 anni di storia, dove non potè la crisi economica, insomma arrivò il virus. Comune, lo smart working è una realtà, i dipendenti lavorano da remoto e quindi restano aperti, grazie a questo, al pubblico, solo gli uffici per i servizi ritenuti indifferibili, quindi comunque si cerca di far fronte all'emergenza anche in questo modo per non bloccare tutto. Sospendiamo però anche le tasse comunali, niente ticket per la sosta blu, insomma le amministrazioni, qui siamo a Pesaro, varano anche delle misure per venire incontro ai cittadini che subiscono le conseguenze del virus. Lezione a distanza, anche la scuola corre ai rimedi e quindi anche per le medie, attivata questa modalità, la Lighieri è un'apripista, la Preside D'Ambrosio ha fatto sanificare gli ambienti, ha messo i sigili e la didattica a distanza arriva anche nelle scuole medie. Ormai i ragazzi e i nostri adolescenti sanno bene come fare e quindi anche i ragazzini in età scolare bassa, insomma sono molto avezzi ai mezzi tecnologici. Ma quello che preoccupa e preoccuperà è il dopo, anche dal punto di vista dell'economia. L'export pesarese vale 3 miliardi di euro e dice la CNA, e saranno, Bordoni dice, appunto, saranno numeri difficili da riconfermare in un prossimo futuro. E questa sarà la coda lunga di questa emergenza perché, come abbiamo detto ieri, prima o poi il virus e il contagio avrà una curva discendente, il tutto finirà, però ci porteremo dietro strascichi in parecchio pesanti. Scavolini chiude, avanti invece BS e Profilglas, i sindacati però annunciano uno sciopero a oltranza per il rispetto delle condizioni di sicurezza. E poi i risvolti, insomma, anche positivi di questa emergenza, ci si industria, si trovano nuove forme di commercio per, appunto, anche sopravvivere, perché il rischio è anche questo, mancando le persone in giro, per strada, insomma, non si fanno acquisti e allora noi portiamo la spesa a casa vostra. Alcuni negozi, siamo a Pesaro, offrono un servizio a domicilio in totale sicurezza. Abbiamo, dicono loro, tante richieste in una situazione che sembra veramente surreale. Entriamo nelle pagine di Fano, Fano è il comune, tutti gli uffici rivoluzionati, parla il capo di Gambinetto Pietro Celani, tre circolari del dirigente per tutelare il personale, sospese anche le missioni e, insomma, ci si industria come si può, lavoro agile, ferie e nuove postazioni per mantenere aperti gli uffici comunali e offrire, appunto, un servizio il più efficiente possibile alla cittadinanza. Poi è sospeso anche il pagamento delle rette per la mensa, lo annuncia Samuele Mascarin, le famiglie che hanno pagato avranno il rimborso per questa prestazione non erogata, appunto, in questo periodo di chiusura delle scuole. Prende forma il nuovo supermercato, chi passa, scusate, lungo la statale e volge lo sguardo a sinistra andando verso Ancona nelle parti della stazione si accorgerà di questa struttura prefabbricata che man mano che passano i giorni comincia a prendere sagoma, qui dovrà essere trasferita appunto l'Eurospin, ci dovrà essere anche una rotonda, insomma, ancora però dice il Corriere Adriatico non si vedono qualificazione e funzionalità, bisogna appunto aspettare un po' perché il coronavirus ha inchiodato non solo le persone dentro casa ma un po' tutto. Nelle pagine del resto del Carlino Seri annuncia un piano anticrisi, Fanesi grazie, penso che intenda Fanesi come cittadini Fanesi e non il vice sindaco, cerchiamo di stemperare un po', infatti dice i Fanesi si stanno comportando molto bene, sono contento e orgoglioso anche di come si comportano agli occhi di tutti. Ma ci sono anche un po' di grane nel senso che i residenti di via Montenerone, sono una trentina, sono in agitazione perché da quando è stata cambiata un po' la viabilità in quella zona, via della Fornace ha un senso unico parziale, insomma molto traffico si è trasferito in via Montenerone e quindi i residenti del quartiere hanno messo la firma su un documento che invieranno al sindaco per chiedere appunto che venga un po' rivista la viabilità perché questa strada appunto da traffico soltanto per residenti si è trasformata in una viabilità diciamo quasi comunale. Anche la Colle Marathon subisce le conseguenze del virus, annullata la data del 3 maggio, il comitato organizzatore ha pensato bene di cancellare la data e probabilmente ci sarà uno slittamento ad autunno della manifestazione se tutto dovrà, dovesse tornare alla normalità e quindi insomma la gara è sospesa a data da destinarsi. A Urbino non trovo più i farmaci per curare mia figlia, lo sfogo di questo residente Pietro Clini, 76 anni, mi hanno detto di andare a Cupra Maritti ma per comprarlo da dicembre è cambiato tutto e quindi lui dalle pagine del resto del Carlino porta avanti la sua battaglia, mascherine e guanti per i lavoratori, CGL e CISL li chiedono per gli operatori del settore sanità appunto come vi abbiamo fatto vedere prima. Nella pagina poi anche all'interno che si concentra anche sui risvolti del coronavirus, Urbino il virus si rompe anche in comune, la Maffea è positiva e quindi tutta la giunta è isolata, lei racconta il suo momento difficile, dice fisicamente sto bene, che si sappia del contagio e comunicarlo anche di conseguenza a tutte le persone con cui ha avuto contatti di recente ma di cui alle volte mi sfugge il ricordo, quindi lei lo annuncia anche per una questione di sicurezza. Intanto era passata la voce che il prefetto Vittorio Lapolla fosse positivo, in realtà così non è, il prefetto è in una quarantena volontaria senza alcun sintomo e quindi lui continua però la sua attività a distanza secondo le norme vigenti che sono state introdotte nel decreto, quindi continua la sua attività di prefetto a presiedere naturalmente anche riunioni e la sua attività appunto continua ad essere svolta senza problemi, lui non è positivo, è solo una quarantena precauzionale. Morte a Malta, Senigallia che ancora, vedrete nelle due pagine non c'è quasi traccia del coronavirus su Senigallia, ancora nonostante l'ospedale di Senigallia sia un ospedale interessato dai ricoveri da coronavirus, ce ne sono diversi, nell'ospedale di Senigallia, però ancora diciamo nella città di Senigallia non c'è un'emergenza come a pochi chilometri di distanza e quindi insomma le argomentazioni sono diverse. Si parla di questo veterinario di Corinaldo che è stato trovato cadavere in mare in circostanze misteriose, nelle acque di Malta, oggi l'arrivo e quindi insomma si vuole capire perché e il percome di questa morte. Nelle altre pagine, quella del Corriere Adriatico, si parla di lavori pubblici, bando per la polizia in ritardo, seconda proroga per la spiaggia, quindi siamo sulla renile, anche qui insomma si sta cercando di predisporre al meglio la stagione che arriva, saltano ad aprile, partiranno le grandi manovre sul littorale per ultimare i lavori entro giugno. e questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere, questa era la pagina di apertura del Corriere Resto del Carlino. Bene, siamo arrivati in fondo a questa ultima rassegna stampa della settimana, una settimana impegnativa per tutti, una settimana che sicuramente ricorderemo per tanto tempo. Noi abbiamo cercato con tutte le nostre forze di tenervi aggiornati e come si dice sul pezzo per quanto riguarda l'emergenza. Bene, affrontiamo la prossima settimana che è una settimana sicuramente decisiva. Vi ricordo prima di salutarvi che domani, domenica 15 marzo, trasmetteremo in diretta la messa dalla Chiesa di San Tommaso, messa celebrata dal Vescovo Trasarti, la trasmetteremo in diretta, quindi l'appuntamento per coloro che la vogliono seguire è per domani mattina alle ore 10, qui sul canale 17 di Fano TV, Santa Messa dalla Chiesa di San Tommaso. Bene, questo è tutto, è il numero comunque che vedete e che ormai dovreste conoscere sempre a vostra disposizione per le segnalazioni o per entrare in contatto con la nostra redazione. Bene, grazie per essere stati con noi in questa settimana così impegnativa e per continuare a seguirci. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.